Hashtag Fede Noi Ci Siamo è lo slogan lanciato da alcuni esercenti che hanno accolto l'appello dei genitori del piccolo Federico. Tra loro c'è anche Piazza Popazza di Fano, il parco giochi al chiuso per bambini, che ha deciso di contribuire organizzando un evento in programma per giovedì 22 ottobre. La rete di solidarietà quindi prosegue senza sosta. La notizia si è sparsa sui social network e su Facebook, sta diventando virale. Grazie al Tantan Mediatico la città continua a mobilitarsi per raccogliere fondi necessari al bimbo fanese, affetto da morbo di crab, per recarsi all'estero con la famiglia e praticare infusioni con cellule staminali. Questa è la sua unica possibilità terapeutica per poter migliorare le condizioni di salute, ma prevede una spesa ingente di 30.000 euro ad ogni trattamento. Le motivazioni sono tante, dal fatto che sia io che la mia socia che vi saluta in questo momento non c'è, siamo mamme e quindi sentiamo, percepiamo il dolore della famiglia di Federico. E poi ci siamo dette, in fondo questa è un'attività in cui vengono proprio i bambini, vengono a giocare, non ti nascondo che è venuto anche Federico una volta con i suoi genitori. Cosa possiamo fare? Possiamo offrire il nostro spazio a tutti i bambini che vorranno venire, alle famiglie di Fano che vorranno venire a giocare e nel contempo, rinunciando ovviamente al nostro ricavato, aiutare la famiglia. Che cosa avete organizzato per giovedì? Allora, giovedì abbiamo deciso di non prendere prenotazioni per compleanni, per feste, per qualsivoglia attività consueta del nostro parco. Il parco sarà a disposizione dei bambini che vorranno venire a giocare, delle famiglie, che quindi pagheranno un biglietto di ingresso che sarà di 5 euro, ovvio che se qualcuno vuole lasciare qualcosa in più per Federico noi saremo ben contenti di farlo, diciamo che è un biglietto base in modo che chiunque possa aderire, anche chi non ha grandi possibilità economiche. Per non togliere fondi alla famiglia di Federico, a Tiziana e a Vito abbiamo deciso come attività di non offrire nulla se non il gioco, lo spazio, il divertimento. Al contrario, un gruppo di mamme, con un gruppo di mamme abbiamo deciso di offrire la merenda. A questo proposito ci tengo molto a ringraziare la signora Anna Pucci in particolare e il forno Pucci di Mondolfo che ci ha fatto un prezzo estremamente conveniente per poter permettere a più bambini di avere la merenda e a noi mamme che la offriamo di non spendere tantissimo. Vi aspettiamo giovedì 22 a Piazza Pupazza dalle ore 16 alle ore 20. Vi aspettiamo numerosi perché noi ci mettiamo del nostro rinunciando a tutto quello che possiamo rinunciare. Voi metteteci del vostro partecipando.